Ciao, sono le 4 di pomeriggio del 30 aprile ed io sto per andare a fare la spesa per domani che sarà ovviamente il primo maggio ed ho pensato di vloggare e portarvi con me Grazie a tutti a presto 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 e lasciatemi un pollice in su e noi ci vediamo al prossimo ciao